Buongiorno ragazzi, eccoci qui e iniziamo con l'ablativo assoluto. L'ablativo assoluto è un costrutto, potremmo chiamarlo, una proposizione subordinata di fatto, che si chiama soluta, assoluta, da ab solutos, perché è sciolta a livello grammaticale dalla proposizione in cui si trova, quindi dalla reggente, sostanzialmente. Di conseguenza, quindi al contrario del participio congiunto che avevamo già visto, la frase avrà un suo soggetto e un verbo che hanno, sia in latino che in greco questo, per quanto riguarda il participio assoluto appunto, hanno, dicevo, un nome e un participio che hanno lo stesso caso. Nel caso del latino abbiamo l'ablativo. Quindi, come vedete, ablativo assoluto è un costrutto del tutto autonomo rispetto alla reggente che è costituito sostanzialmente, essenzialmente, da due termini, o almeno da questi due termini, cioè un sostantivo o un pronome che funge da soggetto e può essere accompagnato da un attributo e un participio che funge da predicato. Ora, questi due elementi sono, ovviamente, strettamente uniti tra di loro, quindi hanno l'ablativo, però ricordatevi sempre che uno è soggetto e l'altro è verbo. Non ci sono, quindi, come specifica, termini di richiamo del soggetto dell'ablativo assoluto, altrimenti sarebbe un participio congiunto, che abbiamo già visto, che segue tutte altre regole, e andiamo a vedere un paio di esempi. Allora, Tarquinio regnante, Pitagoras in Italian venit. Mentre regnava Tarquinio, letteralmente sarebbe regnante Tarquinio, ma noi lo possiamo tradurre anche con un gerundio, se siamo in dubbio sull'accezione. Quindi, regnando Tarquinio, Pitagora venne in Italia. Con il participio presente, che è l'unico che conosciamo fino a questo momento, c'è un rapporto di contemporaneità temporale tra la, diciamo, reggente e ciò che accade nel participio assoluto. Questo vuol dire che, se abbiamo un imperfetto, noi abbiamo visto solo l'imperfetto, ovviamente, anche il verbo dell'ablativo assoluto dovrà essere tradotto come un passato, come un imperfetto. Altra cosa, per quanto riguarda i deponenti transitivi, ricordatevi che, spesso e volentieri, invece di utilizzare l'ablativo assoluto, questo per questioni che poi andremo a vedere meglio in futuro, si utilizza il participio congiunto. Quindi, difficilmente, con i deponenti che abbiamo visto, imparato a conoscere in questi capitoli, ci saranno queste formule. Allora, come si traduce? Si traduce, in realtà, in maniera molto simile a quanto abbiamo visto con il participio congiunto, no? Quindi, come una temporale, come una causale, oppure concessiva, o avversativa, o anche, ci sono queste due possibilità che non avevamo visto, ovvero una suppositiva o condizionale ipotetica, che però in realtà non abbiamo visto ancora, e un'avversativa. Altra possibilità, che è quella che io consiglio sempre, è di tradurla come un gerundio, in prima istanza, infatti, vedete, regnando tra quino, essendo retto arquinio, questo perché successivamente poi andate a vedere qual è l'accezione effettiva di questo ablativo assoluto. Quindi, posto questo, possiamo andare avanti, avevamo lasciato Medus et Lydia sulla nave, che volevano partire per la Grecia, e scopriamo che cosa succede. Medus et Lydia ex Italia profisciscintes omnes res suas secum ferunt, pauca vestimenta, paulum cibi, nec multum pecunie. Pauca et palum sunt sinonima. Pretera Lydia parvum librum fert, quem sub vestimentis occultat. Sole Oriente, navis eorum e porto e graditur, multis ominibus spectantibus. Navis plenis, velis altum petit, alie naves eam secuntur. Sole Oriente, ominibus spectantibus. E qui il libro vi dice, Sole Oriente, est sicut dum sol oritur, et multispectantibus, dum multispectant. Quindi, se dovessimo tradurlo, ovviamente qui abbiamo, andiamo a sottolineare, abbiamo Sole Oriente, ok? Ok. Abbiamo Sole Oriente, posso fare, voilà, e ominibus spectantibus. Quindi, se non lo dobbiamo fare, ovviamente, però se dovessimo tradurre questa frase, è in che modo, quindi, vi consiglia di tradurlo, o di interpretarlo, più che di tradurlo, il vostro libro. Vi dice che è dum. Dum, voi sapete che introduce una temporale. E di conseguenza, quello dovrà essere il valore che deve avere, in questo caso, l'ablativo assoluto. In realtà, Sole Oriente potrebbe anche avere un'accezione causale, volendo, no? In realtà potrebbe avere anche questa legge dell'accezione, lì dipende anche da come lo interpretate. Più verosimilmente, però, ha comunque una sfumatura temporale. Di conseguenza, forse, doom, è, diciamola, il corrispettivo più corretto. Medus in Puppim ascendit. Lydia eum sequitur. Ex alta Puppi Solem Orientem spectant, iam proculabest ostia. Omines qui in portu sunt, vix oculis cerni possunt. Vix est sicut propenon. Cernere est sicut vedere id quod proculabest. In italiano è rimasto come discernere. Medus montem albanum qui propre villam iulis itus est cernit et vale Italia inquit valete montes et valles campi silveque ego in terram eo multo pulcriorem in patria meam Greciam. Medus letatur neque iam dominum sum severum veretur. Veretur est vereri vereor est sicut timere. Letari est sicut letus este gaudere. Eccis icca bemus eo quiam videmus est eo is it imus itis eunt et infinitus est ire et abet infinitum ire. Lydia collest inquibus Roma sita est proculcernit et vale Roma inquit non sine lacrimis tere linquo nam tu altera patria es mii. Lydia vix lacrimas tenere potest. medus facem lide intuetur spectat et nonne gaudes inquit mea Lydia quod nos simul in patrium nostra redimus red ire rursus ire Lydia medum intuens gaudeo inquit quod mi licet te convenire licet plus dativus et infinitivus sicut in lingua italica essere lecito plus minusve at non postum letari quod omnes amicas meas romanas relinquo sine lacrimis Roma proficisci non possum Deoculus Lydia lacrime labuntur cadunt medus eam complectitur et terge oculos inquit ego amicus tuus quiteamo tecum sum in patrium nostram imus ubi multi amici nos operiuntur eam complectitur est braccia circum corpus eius ponit è un giro di parole per dire insomma qualcosa che dovreste comprendere is verbis medus amicam suam tristem consolatur paulo post post paulum temporis nì la nave cernitur pretermaret celum medus gubernatoriam interrogat quam in partem navigamus quam in partem in quam partem navigamus il rispondet in meridiem ecce sol oriens mia sinistra est sole duce navem guberno sole duce dum sol dux est sole ducente navem guberno bene navigamus vento secundo at que cielo sereno dum ille loquitur loqui loquior est verba facere dicere medus occidentem spectat et nubes atras niger procul supramare orirividet ecce sunt sunt nubes nigra nic et simul mare tranquillum fit esse incipit incipit simul mare incipit esse tranquillum non serenum est celum inquit ecce nubes atre gubernatur statim loqui desinit statim tacet et nubes spectat tom vela spiciens et cramot quit malum hoc est nubes atre ab occidente oriuntur et ventus simul cadit oh neptune defende nos atempt estate nauta neptunum deum maris veretur cur neptunum invocas inquit medus invocare est ego clamo neptune venic ecote invoco proprio tranquillum est mare gubernator aduc tranquillum est sed expecta paulum simul cumillis nubibus atris tempest assoriri solet cum tonitru et fulguribus cum tonitru et fulguribus ec sunt fulgur et tonitru sunt in lingua italica sono i tuoni no quod auditur post fulgur neptunum invoco quod ille dominus maris ac tempestatum est nauta per territus tempestatem venientem operitur paulo post totum celum atrum fit qui come vedete alterna in realtà dei participi congiunti come ad esempio tempestatum venientem oppure precedentemente ne avevo visto un altro perché? perché per farvi capire un po' la differenza tra un participio congiunto e un ablativo assoluto ovviamente no? quindi nauta per territus operitur quid tempestata in venientem ok? quindi sostanzialmente c'è un collegamento tra tempestata in venientem e ciò che c'è all'interno della frase mentre invece per quanto riguarda un ablativo assoluto questo non avviene paulo postotum celum adrum fit ac fulgur unum et alterum tum multa fulgura celum et mare illustrat statim sequitur tonitrus cum imbre et simul magnus ventus flare incipit mare tempestate turbatur ac navis que et omines et merces multas veit fluctibus iactatur et vix gubernari potest iactarest iacere at que iacere at que iacere et iacere et iacere et iacere naute multum aque navi auriuntur sed navis nimis gravis est propter merces est aqua in nave et naute auriunt eam in nave sed hoc videns gubernator iaciti merces inquit nautis qui statim merces graves in mare iacere incipiunt spectante mercatore qui ipse quoque nave veiritur qui spectante mercatore ok non c'è alcun collegamento quindi tra ciò che c'è nella reggente di questo spectante mercatore e spectante mercatore per l'appunto dun mercator spectat ille tristis merces suas de nave labi et in mare mergi videt nemo eum consulatur navis paulo levior fit simul vero tempesta molto torbidior et fluctus molto altiores fiunt fit medus perteritus extramat om ne tu ne serva me set vog seius vix auditur propter tonitrum navis acqua in pleri incipit neque enim naute satis multe acqua aurire possunt qui dagit ceteris perterritis l'idea celum intue duret clamat serva nost domine sunt dum ceteris perterritis sunt ic est ceteris perterritis non est nesho ceterum perterritum no est ceteris perterritis medus quis est ille dominus quem tu invocas est dominus noster jesus christus qui non modo ominibus sed et 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 mar imperare potest meus dominus non est ille ergo iam nullius domini servus sum nemo mi imperare potest est nullus nulla nullum et habet genitivus nullius 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 ic magnus fluctus navem pulsat medus lidiam labentem est lidiam labentem et non lidia labente complectitur ac sustinere conatur nec vero ipse pedibus stare potest sed non nec vero medus et lidia simul labuntur medus surgere conatur nec vero se loco movere potest loco movere est ablativus quod lidia perterrita corpus eius complectitur lidia iterum magna voce christum invocat o criste iube mare tranquillum fieri servan os domine iterum est rutsus medus os aperit ac neptunum iterum invocare vult sed magnus fluctus os eius acqua implet medus loquico natur neque potest tum vero pentus cadere incipit iam fluctus non tanti sunt quanti paulo antem naute fessi acquam aurire desinunt ac letantes mare te iterum tranquillum fieri aspiciumt e quindi con questa storia che prende anche una deriva messianica per così dire terminiamo questo capitolo andando un po' a rivedere le cose precedenti quindi qui come vedete introduciamo quindi abbiamo introdotto i verbi deponenti ne abbiamo parlato anche l'altra volta i verbi deponenti come ben sapete perché li avete fatti in greco sono dei verbi che si trovano in forma passiva però hanno significato attivo per quanto riguarda il participio in realtà hanno un participio presente attivo come vedete qui che però è un po' più raro ad esempio letans verens profices operiens e per quanto riguarda invece ovviamente gli infiniti gli infiniti sono in forma passiva poi che altro dire abbiamo introdotto abbiamo trovato alcune formule nuove come ad esempio licet più dativo in particolare qui avete per la prima volta diciamo scritta la coniugazione del presente indicativo del verbo eo del verbo ire poi abbiamo vix vix che è proprio non che anche questo è importante perché è ripetuto in tutto quanto il in tutta quanta diciamo questa parte poi c'è paulo post post paulum e credo che possiamo fermarci qui e ovviamente come al solito se avete domande potete chiederlo e ci vediamo a lezione